un amico esatto ti hanno vetturato qualche tempo fa e ti hanno sottoposto a un esperimento che prevede il controllo della mente e questo ha cancellato la mia memoria c'è un uomo potente che basta che tu sia morta se sapesse che sei diva c'è vita e allora diciamo ci ho già provato ma purtroppo è molto protetto non abbiamo speranze ho un'idea che potrebbe funzionare quest'uomo potente si chiama per caso George grazie a tutti grazie a tutti